Ciao Buga, vedo che sono sempre nei tuoi pensieri, ma non esagerare a parlare di me, perché poi ho altre nemesi che possono diventare gelose. A parte questo, Buga, io ho fatto altre tre o quattro comparsate su Twitch e YouTube senza che l'avvocato Guglielmelli fracassassi, ehm, chiamasse i carabinieri della stazione locale per diffidarmi dall'intervenire. E quindi io e i miei iscritti iniziamo a essere un pochino preoccupati per lui. Insomma, l'avvocato Guglielmelli è stato descritto da Nino Marazzita come un treno che va avanti senza mai fermarsi, mi sembra un po' strano che abbia perso di slancio. Non gli sarà successo qualcosa. Buga, chiamalo, facci sapere che sta bene, perché noi qui siamo preoccupati per lui. Facci ancora una direttina con Guglielmelli che ti costa, perché poi sai com'è la gente se non lo vede più in giro, poi pensa male. Ma veniamo noi, o meglio, alla tua diretta. Per prima cosa, doppi complimenti. Come ripeto da una vita, ti auguro di riuscire a ottenere quel permesso di soggiorno come rifugiata politica perseguitata dai pubblici ministeri italiani che agogni tanto. Se tu dovessi riuscirci, sappi che sei o sarai la prima da quando esistono le serie statistiche tenute dall'Agenzia per i Rifugiati dell'ONU. Nessun italiano è mai riuscito a ottenere l'asilo politico negli Stati Uniti d'America. Ed il motivo lo spiego in quest'altro video. Dacci un'occhiata se hai tempo e voglia. Qualcosa mi dice che il tempo prima o poi lo troverai. In secondo luogo, complimentoni per il doppio risarcimento che hai ottenuto per il tuo sinistro stradale. Normalmente non sono cose che succedono, ma chi se ne importa, nessuno di noi, lavora per un'assicurazione e o detiene obbligazioni o azioni dell'assicurazione medesima. Però a questo proposito, un paio di cose devo chiedertele. In primo luogo, dove e quando avrei affermato che non hai mai avuto un sinistro stradale? Potresti indicarmi il video e il punto esatto? E in secondo luogo, la domanda è più personale, quindi non sentirti assolutamente obbligato a rispondere. Tu hai 700.000 euro da parte e chiedi iscrizioni da 5 euro a dei ragazzi che forse sono a malapena maggiorelli. Sì, insomma, mi sono permesso di dare un'occhiata all'elenco dei tuoi top donatori e ho visto che ci lasciano delle cifre più o meno rilevanti per dei giovanotti. Tu sei sicura che vada tutto bene con questo modello di business? Intendo dire sicuramente è legale, ma tu con te stessa. Quando vedi i tuoi donatori che ci danno dentro, sei tranquilla? Sei a posto? Sei egusintonica? Perché intendo dire, magari sono studenti, si trovano in università, devono pagarsi una camera, i libri, tutto il resto, ma siccome tu chiedi del denaro, loro te lo mandano. Non pensi che magari loro potrebbero spenderlo in altro modo, visto che tu non ne hai bisogno e hai comunque le pubblicità di Twitch e YouTube per campare? A voler tacere, naturalmente, del tuo istinto per gli affari immobiliari, naturalmente. Veniamo poi alla questione relativa al frontalino Facebook di Emity. La tua performance può essere definita, tecnicamente parlando, patetica. Ovvero come cosa che influisce con una certa intensità nell'ambito delle emozioni o degli affetti. Esempio, mi principi a rodere il verme di una patetica disperazione. Così commentava Goldoni, che era un commediografo. Allora, nel tuo patetico tentativo di aizzarmi contro i quattro follower che ti sono rimasti, continua a sfuggirti il problema di questa immagine. M-Team sbatte letteralmente in copertina persone morte che sono parenti dei suoi clienti. E se non capisci dove sta il problema di usare un morto per promuovere un'attività commerciale, significa che forse tu hai qualche problema. Hai mai visto un'agenzia investigativa seria, registrata, con professionisti dotati di nome, cognome e indirizzo, comportarsi in questo modo qui? Io no. Poi, naturalmente, vogliamo davvero parlare delle tesi cosiddette investigative portate avanti da M-Team? Tutti mentono? No, dico, sul serio? Perché tutti dovrebbero mentire in relazione a uno specifico caso? Come ripeto, un errore della magistratura ci può stare, un errore investigativo può sempre capitare, ma com'è possibile che tutti i casi che prendi in mano M-Team si trasformano da incidenti, suicidi, eccetera, in omicidi? Se non ci fossero di mezzo parenti delle vittime che vi pagano migliaia di euro per queste indagini, ci sarebbe da ridere. Anche perché, buga, mi puoi indicare un solo caso che M-Team ha chiuso? La risposta, la conosci meglio di me, è zero. E detto fra parentesi, non mi è ben chiara una cosa. Tu dici di essere scappata negli Stati Uniti per sfuggire ai pubblici ministeri italiani. Se non erro, hai fatto il nome di Giovanni Corona, che è un pubblico ministero di Napoli, e di un altro paio di persone che operano a Roma, se non vado errato. Perché non spieghi ai tuoi iscritti, ma anche ai miei, quali erano i tuoi rapporti con questi pubblici ministeri all'epoca? Intendo dire, per quale motivo queste persone avrebbero anche solo dovuto essere al corrente della tua esistenza? Infatti, correggimi se sbaglio, hai iniziato ad attaccare le procure soltanto quando qualcosa M-Team non è andato per il verso giusto in quel di Napoli. Ma allora ti trovavi già negli Stati Uniti da qualche tempo. Non avrai mica il dono della preveggenza? Vedi, Bugalalla, la differenza principale fra me e l'avvocato Marazzita è che tendenzialmente a me dei tuoi piedi non interessa nulla. E francamente per me non è neanche un problema se l'avvocato Marazzita non riesce ad arrivare sveglio alla fine di uno dei miei video. D'altronde c'ha 90 anni e avrà il diritto di appisolarsi ogni tanto. E anche se non trovasse interessanti video per altri motivi, me ne faccio una ragione. Manco io trovavo interessanti i suoi casi artefatti di forum. Poi, per carità, Marazzita è stata una pietra a miliare dell'avvocatura del Novecento. Ovunque c'era un caso difficile, lui era lì. E certamente merita rispetto, quantomeno per il ruolo che ha svolto nel secolo scorso. Tuttavia, questa sera, nella tua diretta, l'avvocato Marazzita ha rilasciato due o tre dichiarazioni inquietanti che meritano certamente attenzione, ma soprattutto correzione. In primo luogo, l'avvocato Marazzita ha affermato che il tentativo di intervistarti da parte della Re e delle Iene è l'equivalente di una violenza bippale. Dimostrando in questo modo un'assoluta mancanza di sensibilità nei confronti delle donne e anche dei maschi che sono pochi ma pur esistono, che questo tipo di violenza la subiscono davvero. C'è un abisso fra un giornalista che suona il campanello della tua porta e un tizio che si approfitta di te dopo averti immobilizzato, strappato i vestiti, picchiato, eccetera, eccetera. Non voglio essere offensivo, ma diciamo che un avvocato Marazzita che cade in un equivoco del genere forse, ma forse non è esattamente al massimo della sua forma e forse farebbe bene a riascoltarsi e sempre forse farebbe bene a chiedere scusa a qualcuno. In secondo luogo, l'avvocato Marazzita ha detto che per legittima difesa se qualcuno entra nella tua proprietà lo puoi eliminare. Ragazzi, non è così che funziona la legge italiana. Non si può togliere la vita a qualcuno soltanto perché entra in una vostra proprietà. E se accade, non potete utilizzare come linea difensiva il L'ha detto un ospite da Bugalalla. C'è poi una cosa che non mi è del tutto chiara. Buga, sbaglio o hai dichiarato in questa diretta che sei stata invitata a testimoniare da un pubblico ministero italiano? Te l'ha spiegato l'avvocato Guglielmelli che non sentiamo da qualche giorno che per farlo dovrai rientrare in patria. Quella stessa patria che a tuo dire ti sta perseguitando? No, te lo chiedo perché su quel permesso di lavoro hai cancellato una righina. Non è che su quella righina c'è scritto che quel permesso cessa di valere nel caso in cui tu esca dagli Stati Uniti e tentassi di rientrare? O magari preferisci essere sentita dall'estero? Sarei curioso di vederti parlare con il pubblico ministero e dire che non puoi tornare in Italia perché sei perseguitata da alcuni suoi colleghi di Roma, di Napoli e probabilmente anche di Abbiategrasso, chi lo sa. A parte questo, io e tutto il pubblico saremmo curiosi di sapere anche qual è l'oggetto di questa indagine e per quale motivo tu dovresti essere così ben informata sui fatti visto che sei negli Stati Uniti da un paio di annetti. E infine, non mi è molto chiaro quel messaggio in finto codice ma vera minaccia che hai lanciato nei confronti di Giovanni. Da come ne parli sembra che si tratti di un pubblico ministero. Quindi se 2 più 2 fa 4, quel messaggio è chiaramente rivolto al dottor Giovanni Corona il pubblico ministero presso la procura di Napoli che si sta occupando del caso gestito da M-Team. E qui c'è un altro problemino con la tua versione. Fino a ieri o l'altro ieri, l'avvocato Guglielmelli del quale, ripeto, abbiamo perso le tracce Buga, facci sapere qualcosa perché davvero i miei iscritti sono in apprensione diceva che non c'erano indagati, che Mirko Zeppellini non risultava al 335 e via discorrendo. Ora, se tutto questo corrisponde a realtà non ci sono indagati, non ci sono indagini, eccetera per quale motivo mandi questi messaggi in codice a un pubblico ministero di Napoli. Io sinceramente non l'ho capito ma il dottor Corona sicuramente lo comprenderà quindi anche se lui non dovesse essere fra i tuoi follower non ti preoccupare Buga il messaggio glielo faccio recapitare io e non c'è bisogno che mi ringrazi sei la mia nemesi preferita Farò un esposto con le registrazioni delle tue dirette in cui parli dei pubblici ministeri e mi premurerò di fargliele avere naturalmente inviterò anche i miei iscritti a fare segnalazioni simili affinché nelle rispettive procure abbiano un'idea di quello che tu stai facendo e possano fare le opportune valutazioni Oh, nel frattempo, buon cambio di casa Gli straslochi sono sempre una scocciatura Francesca Bugamelli alias John Bugamelli Ma come ti viene in mente di usare un alias simile? Non ti si addice Scommetto che te l'ha detto anche l'avvocato Marazzita Come sempre, se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere il like condividerlo, iscrivervi al canale e attivare la campanella Se non lo farete sarete condannati in un futuro alternativo ed eventuale a diventare streamer su Twitch e a ricevere telefonate da avvocati che erano famosi nel secolo precedente Io vi ho avvisati Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto